Che si mangia oggi? Oggi ci troviamo da Tommaso e Fratelli Salamone, scelto al viale Viale Mare della Risatta numero 680 C'è due coppi di l'arco con l'arco con l'arco con l'arco con l'arco E' un portafoglio là in mia madre Finalmente non è sta, non è sta Amici che mi rispetta è vero Ma è giusto che devo pagare, ci mancherebbe Allora c'è bisogno di fare tutte le cose chiave, signore Ma rispetta, ma rispetta, ci mancherebbe nessuno, perché non mi rispetta Ma magari a volte si prende Magari a volte si prende, ma rispetta se prende Certo, oggi vi faccio vedere un po' che sto tenendo 10 anni, cose belle fresche Oggi si mangia spiccole Spiccole e arrosto Poi si mangia pepata di cozze Cozze con pomodoro, no pepata Cozze con pomodoro, calamari 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 Fritte, eccetto E gamberoni La conclusione, me lo dici quanto pago? Non lo puoi dire Non lo puoi dire Il totale non lo puoi dire Non lo puoi dire Il totale non lo puoi dire Il totale non si può dire Non ho preso tante cose, tante, tante, tante cose a poco prezzo, questo prezzo poco non è solo per noi ma già solo solo, chiaramente nemmeno domani la brace, il zappo, ha frettore la casa ma venite anche voi, vi cuciniamo magari un po' altro vi iniziano, certo, certo, comunque abbiamo una buona giornata e a dopo, a dopo ci vediamo a casa perché io me li porto a casa, virono a mangiare, magari vi cucinano amici, manate, marite, ho cattato un pesce da trasporto, noi ce l'abbiamo da trasporto, ma ci mettiamo a casa, lasciamo, certo, poi ci riportiamo buona giornata